Peren si ritorna a vestire i panni di Don Matteo nell'undicesima stagione di una serie tv tra le più seguite nella storia della fiction italiana e sempre più apprezzata nel mondo, dalla Francia alla Finlandia, dall'America all'Australia. Don Matteo 11 va in onda in 13 serate da giovedì 11 gennaio 2018 in prima serata su Rai 1. Trasmessa per la prima volta il 7 gennaio 2000 su Rai 1, la serie Don Matteo, che negli anni ha mantenuto il suo consueto mix di commedia, giallo e sentimento, è un viaggio nella vita e nella società di oggi tra delitti ed eroismi, generosità e umorismo osservate sempre con lo sguardo irriducibile di un uomo che crede nella possibilità di cambiare. Pur rimanendo fedele al format e alla formula di successo, anche per questa undicesima Don Matteo si rinnova nella tradizione. La prima novità di Don Matteo 11 si scopre in caserma Spoleto c'è una capitana, un ufficiale donna, come ormai se ne trovano molte nell'arma dei carabinieri, al comando di stazioni e compagnie sparse per tutto il territorio italiano. Ma le novità per il maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, e Don Matteo non sono finite nella vita del maresciallo Arrivea anche un bambino, legato misteriosamente al suo passato. Don Matteo si dovrà confrontare anche con Sofia, una ragazzina di 16 anni, che ha un passato di grande sofferenza ed è in piena ribellione adolescenziale. Don Matteo l'aiuterà a ricominciare a vivere. Don Matteo 11 è una produzione luxe vide in collaborazione con Rai Fiction. La regia è affidata a Ian Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet, Don Matteo 11 va in onda in 13 serate da giovedì 11 gennaio 2018 in prima serata su Rai 1. I nuovi personaggi Anna Olivieri 26, è il nuovo capitano di Scoleto, nonché una delle pochissime donne ufficiali nell'arma, ha sempre dovuto farsi largo in un mondo prettamente maschile. Ha dovuto dimostrare di essere all'altezza, se non superiore, a molti uomini. Per questo ha dovuto anche mettere in secondo piano la sua femminilità, nascosta dietro la rigorosa divisa che indossa. Marco Nardi 35 è il nuovo PM che collabora con i carabinieri di Scoleto. È un uomo che ha deciso di stare da solo ed è convinto che le donne siano inaffidabili. Per questo motivo entra subito in conflitto con la nuova capitana. Ma questo maschilismo malcellato deriva dalla ferita che ancora non è riuscito a sanare. Sofia, 16, ha da poco perso i genitori in un tragico incidente. Rimasta sola al mondo viene accolta in canonica da Don Matteo. Sofia, come tutte le adolescenti ha un carattere difficile, è piena di domande, come si accorgerà ben presto Natalina, è anche piuttosto viziata. Con l'aiuto di Don Matteo e con l'amicizia speciale di Seiba la ragazza troverà di nuovo la voglia di vivere. Per la nostra giovane protagonista le sorprese non sono finite, e se scoprisse che proprio a Spoleto vive la sua vera madre, Cosimo VII, viene accolto in canonica da Don Matteo, è un bimbo sveglio, allo stesso tempo dolce e anche molto furbo. Avrà un legame speciale oltre che con Don Matteo anche con il maresciallo Cecchini che per lui diventerà un vero e proprio mito. Riuscirà la sua nuova famiglia ad aiutarlo a ritrovare suo padre, Romeo Zappavigna 24. È il nuovo appuntato della caserma. Timido, leale, sveglio e preciso, impacciato diviene il perferito della capitana, e questo non può che dar fastidio a Cecchini che talvolta si concede qualche buonaria vessazione delle sue. Le cose non potranno che peggiorare quando il maresciallo scoprirà che Romeo ha una fidanzata, Seba XVI è un compagno di scuola di Sofia. Seba è bello, sfigliato, ma dietro ai modi spesso arroganti nasconde una ferita profonda Alice, la sua fidanzata, è in coma da sei mesi, un pirata della strada LH ha investita all'uscita di una festa. I genitori di Alice ritengono Seba responsabile per quello che è successo e non lo lasciano avvicinare alla figlia solo grazie a Sofia. Il ragazzo riuscirà a rivedere la sua bella addormentata, e se Seba dovesse scoprire che la sua amicizia con Sofia si sta trasformando in qualcosa di più? Chiara Olivieri 27 è la sorella della capitana. Al contrario di Anna ha molta cura della sua femminilità e sa sfruttare il suo fascino sugli uomini. Non ha mai avuto una relazione stabile, ma non perde occasione per spronare la sorella a prendersi più cura di se stessa e ad aiutarla nelle faccende di cuore. E se dovesse innamorarsi proprio dello stesso uomo di sua sorella Anna, Rita Trevi 40 è la madre naturale di Sofia. Rita era solo una ragazza quando ha rinunciato a sua figlia lasciandosi alle spalle un segreto molto doloroso. Ora insegna ginnastica al liceo, lo stesso liceo in cui Don Matteo ha iscritto Sofia, con la speranza che le due si avvicinino. La donna ha un carattere duro e determinato, ma forse troverà la forza per superare il suo passato e riabbracciare sua figlia.